Casa che nasce nel 2001, noi siamo campani, ma lavoriamo in tutta Italia ed anche all'estero. Questo è il nostro decimo anno qui al Salone del Libro di Torino, che ogni anno riesce comunque a darci visibilità e ad incontrare nuovi autori e nuovi lettori. In particolare uno dei titoli che ci rende orgogliosi della piccola editoria indipendente è il capolavoro di Lucia De Cristoforo, che è una nostra autrice che ha scelto di rimanere con noi nonostante il successo che abbia avuto la sua opera. È stata premiata sia qui a Torino come scrittrice dell'anno, sia alla Fiera del Libro di Barcellona e questo romanzo in particolare è stato già tradotto in varie lingue e sta avendo grande successo. Questo significa che quindi le persone non hanno smesso di leggere, ma continuano ad acquistare libri e ad appassionarsi a autori. Tant'è vero che questa autrice ha pubblicato con noi anche altre opere ed è bello che vengano qui a Torino le persone a comprare i nuovi titoli magari dello stesso autore. Infine speriamo comunque che l'editoria indipendente possa continuare a mantenersi viva, nonostante comunque sia difficile perché la competitività è tanta, ma noi di Albatross Edizioni ci difendiamo bene e siamo orgogliosi di questo. Un saluto a tutti!